Musica Noi oggi siamo qui per rivendicare ancora la necessità dell'attenzione ai cittadini, la necessità di vaccini, la necessità di tamponi per riaprire le scuole. Tamponi gratuiti per tutti! La rete è still, vi vacciniamo! Musica Che si proceda con i vaccini al più presto, che ci permetta rientrare le scuole in sicurezza, che si controllino i posti di lavoro. I numerista ci dicono che i contagi nei posti di lavoro sono stati elevatissimi perché non c'è nessun controllo e perché tutta la prevenzione è in mano ai privati. Le scuole apriranno in settimana al 50%, che piuttosto che viene meglio, ma comunque non sono state attivate le cose necessarie per un'apertura in sicurezza. E allora tamponi rapidi, trasporti potenziati per la scuola e medicina scolastica e vaccinazioni per il personale ad alto rischio dell'agenda vaccinale subito! La scuola! La scuola! La scuola! La scuola! La scuola! La scuola!